vediamo di riprendere quello che stavo dicendo velocemente ho commentato come prima cosa l'indicatore ma trend eccolo qua sul grafico 30 minuti che dà il nome anche la mia società che ha cavalcato il rialzo ho mostrato questi due chi reversa le ribassisti ieri sul grafico 30 minuti ne ha fatto un primo ribassista poi rialzista poi ribassista di nuovo con i ribassisti che hanno preso il sopravvento e il mercato è sceso questa mattina e invece siamo ripartiti al rialzo siamo tornati sopra indicatore emma trend che si è messo long dicevo che la mia aspettativa è che quello che è stato il ribasso di ieri possa essere di nuovo una buy opportunity quindi per una ripartezza e tornare sui massimi annuali chissà che non si vada anche oltre poi sono passato a commentare adesso cercherò bene forte chiaro di guardare i messaggi prima scusate di nuovo sono passato poi a mostrarvi il trade di stamattina dato nel canale telegram ieri c'è stato uno short chiuso in profitto questa mattina uno short chiuso invece in perdita in occasione propizia perché lo short mentre qualche giorno fa carlo diceva ma il mercato come si faceva a entrare proprio il prezzo indicato perché il mercato è sceso e ho parlato del tema dello slip cioè la differenza tra prezzo teorico reale in cui anche negli ordini automatici si accetta che ci sia dello slippage è chiaro che l'ordine automatico fa sì che lo slippage sia molto più contenuto rispetto all'ordine manuale questa mattina però lo slippage tende spesso a compensarsi infatti questa mattina il mercato è salito subito da 34 e 3 che è stato il segnale è andato era già in un secondo il mercato era già 34 3 20 poi è andato anche 34 3 45 prima che secondo me qualcuno avesse la possibilità di inserire l'ordine manuale quindi lo slippage insomma tende un po a compensarsi spesso con gli ordini a market più è contenuto e meglio è e l'automatismo comunque consente di ridurlo rispetto all'ordine manuale qua invece mostravo l'ultima cosa che stavo mostrando come questo è il trading system invece che utilizzo sul time frame a 90 minuti di swing trading che utilizzo anche per me siamo tornati long in area 30 33 6 facevo vedere come qui abbia fatto sul 90 minuti un ieri chi reversa la ribassista l'abbiamo fatto vedere il doppio chi reversa la ribassista sul 30 minuti meno dubbi ci sono stati sul 90 minuti dove ha fatto questo bel chi reversa la ribassista ma mostrava anche come differenza del 30 sul 90 c'è un chi reversa l'adesso uguale contrario c'è un chi reversa l'app eccolo qua che ha fatto sulla prima candela a 90 minuti del giorno e quindi anche per questo insomma la mia aspettativa di un ritorno sui massimi vedremo se sarà così per adesso comunque il trading system rimane long da 33 e 6 bene stavo tornando invece a guardare la chart di visual trader dove andavamo vedere il fatto che il fuzzimib è in questo momento leggermente negativo 34 430 meno 0.03 vicino alla parità molto negativo l'euro stocks meno 1 per cento col dax meno 0 36 il mini s&p praticamente sulla parità e anche il nasdaq ci sono c'è attesa per la bce di domani e quindi ci sta che un mercato sia un attimo più guardingo però insomma c'è quella finestra temporale positiva per cui come dicevo la mia aspettativa sarebbe per una ripartenza andiamo a questo punto a vedere velocemente dato che ho perso anche un pochino di tempo a vedere qua il l'hft flow scanner che mi serve per mostrarvi due cose i titoli più lavorati dagli hft questa mattina iveco pirelli amplifon leonardo banni st microtronix stellantis biper sul fondo invece a2a terna erg era e unicredit questo nella prima ora la seconda cosa per cui vi mostro hft e per anticiparvi che domani recuperiamo quella puntata che avevo annunciato giovedì scorso con luca barilaro barilaro ideatore dell'hft flow scanner e primo utilizzatore dell'hft flow scanner perché lo lo usa con successo l'ha usato per successo con successo per oltre un anno prima che realizzassimo la versione per i clienti e continua ad utilizzarlo anche oggi lui poi un trader discrezionale quindi non chi meglio di lui per illustrarci domani e commentarci un po' l'hft quindi domani ore 10 torniamo a noi i grafici intanto sul 30 minuti si vede come siamo sui praticamente sui massimi vicino ai massimi giornata comunque siamo tornati positivi sul fuzzimib e andiamo adesso a vedere un po i titoli rispondere vostre domande ieri ho risposto a diverse vostre domande andiamole a vedere se ce ne sono quest'oggi vediamo non nella chat qui non si sente giustamente anche nella chat di youtube non si sente adesso si sente adesso ok bene bene anche qua un caro saluto antonello che si è luca barillaro con obbio corso 15 anni fa esatti beh anche luca infatti è operatore di lungo corso ha iniziato tra i fine anni fine anni 90 a fare trading se non erro quindi è parecchio che sul mercato allora aristone o vs le prime domande che sono arrivate andiamo a vedere aristone e o vs aristone e qua il trend è bello definito quello di breve su aristone vedete questa sequenza massimi decrescenti con questa bella trend line ribassista quest'oggi sta provando a fare un key reversal ma ancora non c'è riuscito perché è la performance negativa meno 0.19 situazione non proprio bellissima è questo grafico qua perché sta andando a rompere con quel movimento che sta facendo se vediamo di trascinare giù ecco questo il supporto più importante sui minimi andiamo a prendere quest'altra trend line da questo livello qua ecco vedete si sta formando un una figura a una figura con quasi un triangolo con il vertice vedete in area poco oltre i quattro euro e quindi occorre fare un attimo di attenzione perché la rottura dei quattro euro potrebbe portarci giù fino sui 378 potrebbe anche rompere dalla parte opposta questa figura tanto più che adesso sta provando a fare un diversa la rialzista vicino a questa trend line però però ecco nel dubbio e se si è flat per il momento sarebbe meglio rimanerci in modo da vedere da quale parte il titolo romperà questa figura e qui sopra c'è una resistenza sui 459 c'è un supporto intermedio qua sui 377 poi questo che è il supporto più importante tra i 48 quindi se non si è già investiti su aristo una cosa migliore è adesso aspettare e vedere che cosa accadrà nelle prossime nelle prossime ore o nelle prossime sedute poi vediamo ovvi s ovvi s è la situazione molto più convincente anche se il titolo è sotto resistenza c'è questa resistenza qua che si è formata nel breve sul massimo a 2 946 del 27 di settembre da diverse sedute laterale sotto questa resistenza ci sono comunque dei minimi crescenti che fanno ipotizzare che il titolo possa riuscire a rompere la resistenza e prendere forza oltre i 3 euro qua c'è questa trend line questo canale di rialzista che andiamo a prolungare quindi se si è già long insomma direi che si possa tranquillamente alzare gli stop profit guardando i livelli indicati se si è fletta insomma meglio non anticipare la rottura della resistenza perché se puoi stornare anche solo 282 si rischia di prendere uno stop e di vedere poi il titolo ripartire bene il detto anche questo detto anche questo andiamo a vedere se sono arrivate altre domande belle la candela di leonardo prossime resistenze allora andiamo a vedere la candela di leonardo e le prossime resistenze leonardo eccoci qua allora sì leonardo sta facendo una bella candela perché con questa candela avevamo già evidenziato questo chi reversa l'app qui e che per il momento è rimasto inviolato quindi ha fatto questa base qua vicino a un supporto e da lì sta ripartendo quindi chi reversal come sempre è la cosa che più di ogni altra vicino a un supporto consente di minimizzare lo stop e il rapporto rischio rendimento qui la candela è bella perché sta rompendo questa area quindi con questa resistenza intermedia qui che era stata già testata un paio di volte qui sui 21,35 c'è quest'altra resistenza che io ho indicato sui 21,70 e poi bucatolo 1,70 non c'è più nulla fino quasi ai 23 euro quindi positivo sì il movimento confermo che sta facendo leonardo oltre 21,70 22,70 potrebbe essere l'obiettivo però ribadisco anche questo chi reverse alla rialzista poi andiamo a vedere altre le altre domande costi di multi charts con iq feed allora iq feed sinceramente non ricordo quanto costi se mi un'e-mail ci ci guardiamo perché a memoria non non lo ricordo multi charts invece lo ricordo bene dato che il sito multi charts italia è di proprietà della mia società e però vi anticipo anche che dico per il vostro interesse che ci sarà una promozione per il black friday e quindi se non avete urgenze e non avete ancora fatto la prova dei 30 giorni chi vuole può fare la prova dei 30 giorni e poi comprare per il black friday dove ci sarà uno sconto tra il oltre il 30 per cento vicino al 40 per cento di sconto quindi non uno sconto di da poco per i q feed invece non non ricordo quindi ci guardiamo via mail poi altra cosa leonardo chiede guendalina abbiamo già guardato quali livelli significativo sul btp rimangono sempre gli stessi livelli significativi sul btp non cambiano rispetto a tutte le analisi precedenti che abbiamo fatto li ho indicati anche nel report settimanale che è stato postato nel canale telegram e anche su tutti gli altri social ho messo i livelli chiave e livelli che sono rimasti inviolati perché il supporto questo qui vedete la base di questo box che avevamo già tracciato a retto in close la prima resistenza è sempre quella sempre gli stessi livelli che girano ormai da mesi 121 e 50 che questa mattina è approcciata vedremo se riuscirà a chiudere sopra questo livello e poi il più importante sul massimo di questo key reversal e ribassista 122 e 62 che già a suo tempo avevo detto dubito che possa essere un key reversal e ribassista che possa avere andate a rivedere le registrazioni un impatto simile a questo cioè che possa provocare un grande ribasso per il momento è stato così perché l'ha già tenuto sui 120,20 e siamo anche tornati long sul btp approfitto per mostrarvi quindi anche la newsletter quindi qualche volta mi chiedete informazioni sulle sulle newsletter e andiamo a vedere quindi eccoci qua questi sono i portafogli modello dove queste sono le posizioni attuali dove a questa mattina eravamo long di fuzzimib con stop 34 035 eravamo e siamo ancora long di btp con target di metà posizione a 121,6 dove siamo entrati a 120,5 e appunto col target di metà posizione a 121,6 data di acquisto è stata l'11 ottobre e long di bitcoin dove siamo entrati domenica 62,3 nel momento in cui è dato il segnale eravamo anche sotto i 62,3 eravamo 62,2 e 80 poi con un target di metà posizione che è stato colpito e poi lo stop profit alzato 64,4 questi sono gli eseguiti di tutte le operazioni che sono state fatte da inizio anno andiamo a vedere le ultime operazioni questo con il track record la curva dei profitti costruita fino al 3 di luglio quindi da inizio anno fino al 3 di luglio quindi una signora curva dei profitti per chi ha fatto i future ma anche per chi ha fatto i contratti mini e direi che sia una signora curva dei profitti e abbiamo le ultime operazioni che sono state fatte con prima una stoppata sul bitcoin chiusa qualche giorno fa il 9 di ottobre poi siamo rientrati di nuovo long sul bitcoin il 13 con target raggiunto a 5,87 poi ieri abbiamo chiuso metà posizione sul nasdaq più 1,18 l'altra metà a pareggio perché con la discesa siamo arrivati prima a target e poi è sceso l'altro 50% è stato chiuso a pareggio e siamo pronti a rientrare sui mercati americani bene questo per quanto riguarda la rubrica sui future che è replicabile anche con contratti mini micro oppure cfd quindi torniamo alla nostra piattaforma quindi così abbiamo guardato anche lo sguardo alle piattaforme attive poi Antonio chiede seco che ho in forte perdita 2,15 andiamo a vedere seco torniamo nel nostro grafico qui andiamo a vedere seco in forte perdita allora qui io ogni tanto sono costretto a tirarvi le orecchie perché non si può fare trading se non ci si assume un massimo rischio uno stop loss questo titolo qui siamo sui minimi storici mi pare e datemi soddisfazione ogni tanto nella didattica che faccio datemi soddisfazione ascoltando i consigli consigli che non ci si mette contro trend se ci si mette contro trend lo si fa su un supporto lo si fa se c'è un key reversal altrimenti meglio stare fermi meglio non mettersi contro trend e in ogni caso se ci si mette contro trend bisogna fissare degli stop loss io dove vado a finire seco non lo so non ho la sfera di cristallo se si fermi se prosegua però questo è un brutto trend è brutto cioè non ci sono segnali di ritorno di forza anzi qui e poi datemi soddisfazione quando vi insegno anche gratuitamente poi per chi viene ai corsi lo insegno lo spiego ancora meglio ci dedichiamo parecchio tempo insomma un po più di tempo al al master fatto a riolo terme ho spiegato come individuare supporti resistenze ma l'ho spiegato anche in televisione l'ho spiegato anche gratuitamente in una trading room recente l'ho semplificato di più rispetto a quello che faccio ai corsi però è comunque una semplificazione sufficiente a salvarvi da bagni di sangue perché questo rischia di essere un bagno di sangue spero di no io non voglio portare male però lo è già ecco da 2.50 a 1.64 lo è già un bagno di sangue quando un titolo rompe i massimi a sei mesi o i massimi a un anno o addirittura i massimi i minimi storici ma vale per i massimi come resistenza in questo caso stiamo parlando di perditi stiamo parlando di supporti qua questi sono i minimi storici cioè qui il titolo i suoi minimi storici dell'anno cioè che erano stati toccati quest'anno erano ad agosto qui poi ha fatto un rimbalzo ok questo era il minimo storico fino ad allora ed eravamo 2.16 l'ho comprato a 2.50 non ho stoppato la posizione se è stata comprata prima vabbè pazienza ha rimbalzato non mi ha rotto il trend ribassista diciamo che se tiravo una trend line più recente anche sì vediamo se io avessi tirato una trend line qua parallela al canale di regressione lineare ecco magari l'ingresso potrebbe essere stato anche successivo qua e ci poteva anche stare ci poteva anche stare perché qua mi ha rotto questo canale qui e ci poteva stare di andare long era meglio diciamo così era meglio se ci fosse stato questa rottura fosse stata accompagnata da volumi ma i volumi vedete che non ci sono stati sulla rottura anzi i volumi più bassi rispetto alla candela precedente e i volumi sono molto importanti soprattutto sulle small cap sono sempre importanti i volumi ma sono fondamentali sulle small cap qua dove gli ha fatti i forti volumi? gli ha fatti su sta candela qua che è una candela che si è chiusa in perdita ed è un key reversal ribassista questo quindi questo è un key reversal ribassista minimo massimo superiore al massimo precedente chiusura negativa accompagnata da forti volumi questi i volumi con cui ha rotto il canale qua sono debolissimi questi invece con i quali inizia a scendere sono volumi molto forti quindi diciamo che se l'acquisto è stato a 2,50 qui ci poteva anche stare ma qui mi doveva subito venire qualche dubbio e dovevo darmi un punto di stop loss se era un trading speculativo di breve il punto di stop loss si poteva fissare sotto questo minimo al rientro dentro al canale quindi tipo su questa candela qua se un trade, una posizione che io ho assunto invece sempre alla rottura di questo canale con un obiettivo di medio e lungo periodo allora ci può stare che lo stop sia più largo ma dove lo vado a mettere? lo vado a mettere almeno sui minimi storici cioè questi erano fino a quel momento i minimi storici al 9 di agosto cioè non posso lasciar correre una perdita sotto a un minimo storico cioè titolo che quota fa prezzo dal maggio del 2021 quindi significa andare qui sotto al minimo degli ultimi tre anni ed è un grosso rischio non posso rimanere long al cedimento del minimo di tre anni perché il più delle volte finisce male poi ci può essere l'eccezione che il titolo magari rompe il minimo e dopo un po' risale però il più delle volte è l'eccezione quindi qua era l'operazione se fosse stata un'operazione di breve qui lo stop secondo me sui 2,47 un'operazione di medio e lungo ci poteva stare aspettare ma non sotto questo minimo poi tra l'altro questo minimo me lo va a rompere con una candela di espansione cioè questa è una brutta candela di nuovo con forti volumi quindi vuol dire che qua è tanta la pressione ribassista ma lo vedete anche dal range della candela ok? una candela con un ampio range ho avuto dei dubbi che non avrei dovuto avere aspetta non si sa mai magari rimbalza poi il giorno dopo infatti qualcosina risale eccetera e poi mi rifà un altro chi reversa la ribassista qua cioè la pressione ribassista i segnali c'erano tutti qui poi mi va a rompere di nuovo questo minimo che è diventato il nuovo minimo storico e qua sta scendendo praticamente senza senza sosta dal 2 di ottobre e scende anche oggi meno 2,38 ieri meno 1,98 meno 3,15 che ha fatto l'11 di ottobre ragazzi qua è pericoloso lasciare ancora le perete così perché io non sono andato a vedere adesso i fondamentali di secco quindi non posso fare allarmismo e non voglio fare allarmismo di qualunque tipo però il passato ci insegna che tante situazioni sono andate a finire male con delle perdite così forti e con nuovi minimi storici eccetera quindi non necessariamente default ma ricapitalizzazioni e perdite comunque molto molto grandi cioè bisogna mettere gli stop loss bisogna mettere gli stop loss soprattutto in situazioni come queste e non bisogna improvvisarsi trader o speculatori se non si ha la capacità di gestire il rischio lo dico contro il mio interesse nel senso cioè che chi fa l'operatore finanziario tecnicamente ha interesse che ci siano più persone che fanno trading non scoraggiarle a fare trading però eticamente è sempre fondamentale invece che portare persone a fare trading se non sono adeguatamente preparate o anche investing a insegnare a rispettare queste regole io ve le cerco di insegnarvele tutti i giorni per la vostra salvaguardia per la vostra salvezza perché chi si brucia è un utente perso da tutto il sistema è un utente che smette di fare trading è un utente che smette di fare investing è un utente che dice ah mi sono perso un sacco di soldi che ne ho sentito uno anche due giorni fa tra l'altro un operatore diciamo istituzionale che si occupa di altro non aggiungo altro perché non è insomma per privacy è detto ah adesso mi sono dato da altre tipologie di investimenti perché con la borsa ho perso un sacco di soldi bisogna approcciare i mercati finanziari col dovuto rispetto e seguendo le regole minime che vi insegno anche gratuitamente il rispetto dello stop individuazione del trend i key reversal i volumi che accompagnano i key reversal ribassisti la rottura di minimi storici è veramente fondamentale cioè cerco tutti i giorni di ripeterle queste cose perché ci tengo alla vostra salvaguardia e proprio perché ci tengo alla vostra salvaguardia che si scrivono anche i libri si fa divulgazione e l'occasione propizza per dirvelo ci saranno tre eventi anche quest'anno parteciperò al mese dell'educazione finanziaria e ho organizzato tre eventi per il mese dell'educazione finanziaria segnatevi le date poi nel giro di pochissimi giorni vi condividerò le locandine le modalità di partecipazione ci saranno tre eventi il primo con radio 24 per parlare di truffe finanziarie un altro evento che si terrà all'università cattolica ma ci sarà anche lo streaming avrò ospite vera spadini graditissima ospite conduttrice di sky sky sport per la moto gp in particolar modo ma anche per la formula 1 nicolò bulega cui vanno i miei migliori saluti impegnato nella ultima gara del mondiale superbike dove si gioca il titolo mondiale con il turco toprak il cognome non mi azzardo mai a dirlo perché è quasi impronunciabile per me e poi un terzo evento con l'università di Bologna a sede di Rimini anche qui avremo ospiti graditissimi non solo analisti ma anche ospiti dal mondo delle due ruote che ci parleranno di argomenti sia tecnici che psicologici che hanno a che fare con il mondo degli investimenti perché ci sono tante affinità lo dico da un anno in particolar modo da un anno da quando ho scritto il libro trading system da 0 a 300 ci sono tante affinità una di queste è la psicologia dove nel mondo dello sport io mi riferisco soprattutto alle moto ma nel mondo dello sport ci sono alti e bassi e i rischi vanno gestiti e bisogna gestire anche di testa questi rischi e anche l'emotività che ne deriva quindi il fatto che ci si può demoralizzare dopo gli insuccessi il fatto che c'è euforia dopo un successo e quindi si tende a fare degli errori sia quando si è depressi quando si è giù di morale ma si fanno errori spesso anche quando si è troppo euforici e di questi aspetti parleremo nell'evento in cattolica con Vera Spadini bene detto questo torniamo a noi vediamo le ultime domande andiamo su Microsoft e Tesla Microsoft e Tesla andiamo un po' Tesla ieri tra l'altro ci farò una videopillola oggi sul tema dell'elettrico sapete che se mi seguite con attenzione io sono sempre stato scettico sul tema dell'elettrificazione ma non perché ce l'abbia con le auto elettriche perché sono una alternativa e una possibilità per diversificare le fonti di inquinamento e diversificare la mobilità ma sono sempre stato contrario all'elettrificazione non come scelta di mercato ma come scelta imposta dalla politica e ne stiamo pagando le conseguenze con un intero settore che è stato distrutto in Italia con case che stanno fallendo e stanno fallendo non solo tutte le piccole e medie aziende che lavoravano sui motori termici ma stanno fallendo anche case automobilistiche e motociclistiche che si sono date all'elettrico purtroppo lo dico proprio con dispiacere ieri la notizia della chiusura del fallimento di Energica Energica Motor Company società modenese quindi io sono anche modenese quindi mi dispiace doppiamente perché ci sono persone che ci lavorano c'è dietro passione ci sono investimenti ci sono prodotti anche di qualità che erano stati fatti quindi è un dispiacere che ci sia questo fallimento di Energica Motor Company ma l'elettrico l'elettrificazione purtroppo fatta in questo modo sta facendo un sacco di danni andiamo comunque torniamo a noi Microsoft Microsoft eccola qua ho già detto la mia opinione qualche giorno fa su Microsoft che è un titolo che sta facendo peggio del Nasdaq e quindi sapete come anche qui insisto sul fatto che è meglio puntare sui titoli che fanno meglio del listino soprattutto in ottica di investimento io non posso entrare nei dettagli perché non posso fare sollecitazione eccetera ma c'è un prodotto quotato quindi non posso entrare nei dettagli che diamo dei modelli a una società di advisory per un prodotto quotato e questo prodotto sta battendo sta facendo meglio del mercato ma perché sta facendo meglio del mercato perché la logica è quella dei modelli che vengono impiegati di andare a selezionare fan picking e stock picking sui titoli che trascinano il mercato non su quelli che fanno peggio su quelli che zavorrano gli indici su quelli che fanno meglio allora Microsoft già da tempo sta facendo peggio del Nasdaq e quindi è un titolo che io in ottica di medio lungo periodo per il momento non privilegerei lo metterei in fascia B l'ho già detto in ottica speculativa di breve ad esempio qua si è formato un key reversal alla rialzista quindi qui ci sono i segnali dell'MGP 72 quindi un ingresso ci poteva anche stare è chiaro che questo minimo 408.17 è un riferimento importante prima resistenza che potrebbe essere l'obiettivo di questa risalita sui 431.70 Tesla Tesla eccola qua allora Tesla vedete che ha un supporto sui 206 dollari e quello che si è formato il 14 è un key reversal rialzista perché c'è un nuovo minimo con una chiusura superiore alla precedente vedete chiusura positiva più 0.62 quindi ci potrebbe stare una richiusura del gap verso i 232 è chiaro che questo riferimento questo minimo del key reversal è un riferimento importante 213.74 e poi sotto abbiamo i 205.75 quindi questi sono i due supporti da guardare obiettivo la richiusura del gap e poi la resistenza cruciale vedete con questo c'è il key reversal e la ribassista già evidenziato poi qui ne ha fatto un altro molto vicino e vicino ai massimi 2.64 dollari andiamo alle ultime domande lvmh se dovesse chiudere sotto i 600 dove dovremmo aspettarlo allora già su lvmh ne ho parlato ieri Federico su class smbc quindi la situazione non è che sia cambiata più di tanto torniamo sull'europa lvmh se dovesse chiudere sotto i 600 lo dobbiamo raccogliere con il cucchiaino già detto ieri potrebbe scendere verso i 540 540 potrebbe diventare l'obiettivo di lvmh e sul quale già ieri avevo invitato a fare prudenza ad avere prudenza i sussidi eventuali europei le società di auto potrebbero invertire il trend negativo per il settore nel libero mercato i sussidi beh certo i sussidi aiutano sempre a tenere a galla un settore male non possono fare però già il fatto che le auto elettriche non si sono vendute si sono vendute poco anche con i sussidi c'è un mercato che è stato drogato ma dove le persone in un momento di crisi economica con l'inflazione comunque alta dove la gente fa fatica ad arrivare a fine mese dove la spesa quello che mettete proprio nel carrello della spesa ha subito degli aumenti pazzeschi perché sono consumatore anch'io c'è anche mia moglie che va a fare la spesa quindi le famiglie hanno tutte più o meno le stesse problematiche i prezzi li vediamo tutti e tantissima gente fa fatica ad arrivare a fine mese auto che hanno raddoppiato o in alcuni casi quasi triplicato il prezzo di acquisto senza dare dei vantaggi reali in termini di benefici cioè gli svantaggi delle auto elettriche sono mediamente superiori ai vantaggi dove sei schiavo dell'auto non l'auto al tuo servizio ma dove tu sei al servizio dell'auto e sta portando a queste conseguenze si salva giusto tesla perché per ragioni di marketing ma anche di prodotto dove hanno puntato fin da subito tutto sull'elettrificazione hanno avuto un buon posizionamento strategico sono diventati leader di mercato ma tutte le altre case automobilistiche stanno veramente la strategia dell'elettrificazione totale stanno tornando indietro e non sta pagando e non credo che comunque basterà a risollevare le vendite dell'elettrico gli incentivi daranno un contributo ma non basteranno a risollevare se andrà sicuramente nella direzione ci saranno alcune case che rischieranno il default ci saranno delle aggregazioni delle nuove aggregazioni già ci sono state in passato e ci saranno ancora più forti in futuro e di case di brand ne spariranno e se ne salveranno pochi purtroppo non dico purtroppo da appassionato di auto poi vediamo l'ultimissime domande se ci sono su youtube le moto e il know-how di Energica non era stato acquistato da Ducati per fare le moto elettriche per il campionato Moto E? No 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 Energica è rimasta una company indipendente Ducati non ha comprato non è entrata non mi risulta proprio nel capitale di Energica tant'è che Energica ha chiuso secondo fonti di stampa cioè non ha chiuso, chiuderà insomma è stata annunciata la chiusura ieri proprio per le condizioni di mercato dove le vendite purtroppo non ci sono e soprattutto non sono stati trovati investitori che credano nel prodotto che credano nel mercato nel mercato delle elettriche quindi questa forse è la notizia peggiore per il settore del quindi il fatto che non abbiano trovato investitori quindi sì la situazione non è proprio bellissima e ripeto personalmente mi dispiace soprattutto per le persone che ci lavorano mi scusi l'isturro ho inviato email relative problematiche eccesso all'area download può darsi che l'email sia finita in spam adesso verificherò ho già spiegato che le modalità sono cambiate e quindi le rispondo via email per accedere all'area riservata chi entrava con le vecchie modalità mi scriva perché abbiamo semplificato dato che alcuni ogni tanto avevano problemi e perdevano le password questo e quell'altro abbiamo semplificato il tutto bene buon trading a tutti ci aggiorniamo domani alle 10 per la trading room con Luca Barilaro per parlare di HFT buon trading a tutti